benvenuto sui tutorial di vismar a vetro in questo video apriremo un imballo proprio come se fossimo nel tuo bagno pronti a montare la tua cabina doccia iniziamo il box doccia vismar a vetro arriva a casa tua già assemblato ricorda siamo gli unici a farlo questo ti permetterà di procedere più velocemente e senza intoppi box doccia su misura imballo su misura tutte le scatole sono realizzate per adattarsi alla singola doccia i pezzi inoltre sono ben confezionati così non possono rovinarsi durante il trasporto vedi questi angolari in cartone servono proprio questo tutto il materiale che trovi all'interno dell'imballo è completamente riciclabili il cartone è ad alto spessore ed è certificato fsc una certificazione che garantisce che i prodotti provengono da foreste gestite in maniera responsabile garantendo così benefici ambientali sociali ed economici la superficie esterna ha un trattamento idro repellente per dare una resistenza maggiore nel caso in cui l'imballo si bagni e in più l'imballo è dotato di terrince utile anche per trasportarlo qui sul bordo dell'imballo invece c'è l'etichetta con la destinazione e altre informazioni utili all'interno abbiamo la checklist dei materiali in cui vengono spuntate le varie fasi di produzione e serve per verificare di avere inserito tutto il materiale richiesto per essere certi che tutto corrisponde alla perfezione prima della chiusura dell'imballo scattiamo una foto al prodotto che ci permette di verificare eventuali incongruenze al momento dell'apertura del box doccia e per ultima cosa ecco il libretto contenente le istruzioni il manuale per la corretta manutenzione del prodotto e le informazioni relativa alla garanzia della cabina doccia buon lavoro visita il sito vismaravetro.it per saperne di più ci vediamo nel prossimo video